No, no, stavo pensando, la tieni l'acqua? Eh, ma non ci sono promozioni. Zero. Panini. Amore, insalata. Lo shooting ovviamente si viene al MAC, tutte molto contenti di venire al MAC. L'unica scelta era il MAC, però ragazzi. Sono anche un po' combinata con questo destino. Allora, io sono a casa, ancora non mi sono fatta doccia perché ho dovuto fare dei piccoli video per lavoro, ma vi voglio far vedere questa cosa perché me l'ha portata mia mamma, è un piccolo porta chiave, ma soprattutto è il pensiero perché me l'ha data a mamma una bambina di 4-5 anni che si chiama Sofia, che l'ha riconosciuta e le ha detto che era per me, quindi è stata veramente una cosa che mi fa piacere perché poi è piccolina e ve lo volevo raccontare. La nostra Rebecca Staffelli che si chiede, qua siamo quasi a luglio, ma veramente 22 gradi? Sì, anche qua in Veneto purtroppo, mamma mia. Chiudiamo con Alessio Falzone, la poliziai e poi Paolo. Ciao!